Prima firmataria del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, quello originario presentato nel 2013 e prima firmataria del disegno di legge sul salario minimo, tuttora all'esame del Parlamento. La nuova Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha una certa esperienza nel settore. Catanese, 52 anni, è al momento Presidente della Commissione Lavoro del Senato, in quota al Movimento 5 Stelle, in carico che dovrà naturalmente lasciare. Diplomata di mestiere, si occupa di orientamento e selezione del personale, così si riscrive sul blog delle stelle, organo ufficiale del Movimento, e dice per quasi 30 anni mi sono occupata di formazione, dispersione scolastica e aiuto all'inserimento, in collaborazione con i centri per l'impiego e i servizi per l'impiego in generale. Dal 2008 sono attivista del Movimento 5 Stelle, per portare avanti una nuova visione del mercato del lavoro, più aderente alle esigenze di imprese e cittadini. Nel 2014, come del resto gran parte del Movimento, era favorevole all'uscita dell'Italia dall'euro e firmò la proposta di legge di iniziativa popolare che puntava a questo obiettivo. Al Ministero del Lavoro raccoglierà il testimone lasciato dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. Lei è al suo secondo e ultimo mandato nel Movimento 5 Stelle. Vi ringrazio per aver ascoltato questa scheda sul mio canale, ci sono le schede, il piccolo curriculum di tutti i ministri del governo Conte Bis. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.